Luigi Inneo candidato per le prossime regionali del 31 maggio con la Puglia con Emiliano. Una lista civica e innanzitutto le motivazioni che hanno spinto a candidarsi? Le motivazioni sono molto semplici, nascono da una considerazione sola. Io non so quanto e quanti mi hanno seguito nelle mie battaglie contro l'assessore Stefano, l'assessore Nardoni, contro il sistema Puglia e il sistema Grande Salento, però poi sono arrivato alla convinzione che quella era gente che è stata eletta nel proprio territorio e faceva gli interessi del proprio territorio. Il problema vero erano i nostri rappresentanti del nostro territorio nel Consiglio regionale, gente che purtroppo secondo me ci ha venduto per un pugno di fagioli, gente che non ha affatto rispettare le esigenze della nostra agricoltura. Quindi non possiamo continuare a lamentarci e poi continuare a votare, a eleggere i soliti noti che vanno lì a riscaldare le poltroni. C'è bisogno di gente nuova, di gente che vada lì con idee ben precise, sapendo e conoscendo il mondo di cui vuole trattare e che vuole governare. Il neo è noto come Copagri, quindi mondo agricolo e l'agricoltura sta soffrendo, la provincia di Foggia in particolar modo. Cosa propone ai cittadini della provincia di Foggia per poter essere votato, quindi le motivazioni per riportare anche su un certo tipo di agricoltura dalle nostre parti? Allora l'agricoltura per essere aiutata ha bisogno di 3-4 operazioni di principio. La prima operazione è la commercializzazione. Noi non possiamo parlare più di aiutare gli agricoltori se prima non aiutiamo a commercializzare, a vendere. Noi abbiamo subito, io dico che ci hanno calato addosso il mercato globale e noi non eravamo pronti. Nella globalizzazione noi siamo perdenti perché noi non abbiamo le mega aziende di centinaia e centinaia di ettari. L'agricoltura foggiana, l'agricoltura pugliese, ma l'agricoltura italiana in genere è frazionata, ha bisogno di mettersi insieme, ma più di tutto ha bisogno di essere accompagnata sul mercato globale. Per fare questo bisogna prima di tutto vendere il nostro territorio, far conoscere il territorio e quindi mettere in condizione poi l'azienda di poter seguire a ruota la vendita del territorio da parte della pubblica amministrazione per vendere i prodotti. Quindi prima di tutto la commercializzazione. Per fare la commercializzazione abbiamo bisogno di infrastrutture efficienti, infrastrutture che non devono esistere solo sulla carta. Noi abbiamo un interporto di Cerignola che da quando è stato fatto non è mai entrato in funzione. Abbiamo i nastri trasportatori del porto di Manfredonia, dicasi la stessa cosa, cioè mai entrato in funzione. Un aeroporto che si balla sempre, il via, quella che non parte mai, non decola né gli aerei per i turisti, per le persone, e tanto meno gli aerei per il trasporto delle merci fresche. Se noi siamo produttori di merce fresca, di prodotti freschi, l'orticolo fresco, l'orticolo fresco ha bisogno, la necessità di arrivare sui mercati europei in due ore, con due ore di volo. Non può farsi prima dieci ore di viaggio nelle celle di frigorifero, arrivare già cotti dalle celle di frigorifero e poi essere imbarcati a Milano e spediti per il resto d'Europa. Devono partire con l'aereo cargo da qui. Lei ha toccato punti importanti delle infrastrutture, porti, aeroporti, ma le strade, le ferrovie, quindi un tema importante, caldo, per questa provincia di Foggia. A questo ovviamente l'agricoltura, il turismo è collegato. Comunque bisogna andare a Bari e a Bari bisogna cercare di essere presenti in maniera massiccia per dare slancio a questa provincia di Foggia. La scelta di Emiliano, quale candidato presidente, pensa che è stata la cosa più giusta e quindi automaticamente sarà la persona che darà più visibilità al territorio? Io penso che Emiliano sia la persona più giusta per amministrare, prima di tutto. Poi per dare visibilità al nostro territorio non è tanto convito di Michele Emiliano quando Presidente della Regione, ma è convito degli assessori o dei consiglieri, espressione di questi territori. Noi non possiamo scrollarci di dosso delle responsabilità nostre. La responsabilità di rappresentare questo territorio è nostra, non del candidato presidente. Tutto ciò però si può fare quando si ha un candidato presidente, un presidente, mi auguro io, che sia un ottimo amministratore. Siccome Michele Emiliano quando ha amministrato il comune di Bari ha mostrato di essere un buon amministratore, perché amministrare una città di centrodestra dal centrosinistra per dieci anni puoi fare eleggere un suo candidato con una percentuale molto alta, vuol dire che comunque ha esercitato, ha operato bene. Poi ci sarà sempre chi avrà qualcosa da dire, però si dice un vecchio proverbio che chi non opera non sbaglia. Ovviamente il tema del foggiano è importante, ma parliamo anche della persona giusta al posto giusto. Quindi una persona come lei che in agricoltura ci naviga, tra virgolette, dovrebbe essere la persona giusta. Penso di sì, ma non per presunzione. Sono tredici anni che ormai opero a difesa di questo territorio e della nostra agricoltura. Quindi penso di aver capito e di aver imparato qualcosa e vorrei mettere quel poco che ho capito a disposizione di questo territorio. Sono un operatore, un rappresentante di operatori agricoli, questa è una provincia agricola, quindi penso di essere il candidato ideale per questo settore. Lo ha chiesto con forza tutto il mondo imprenditoriale, che noi quando abbiamo fatto la riunione con Michele Emiliano in Camera di Commercio, il Presidente della Col di Retti, il Vicepresidente della Camera di Commercio, ci ha chiesto espressamente a Michele Emiliano che Foggia avesse l'assessorato all'agricoltura. Perché vede, è una cosa che non capisco, in tanti anni un foggiano non ha mai chiesto l'assessorato all'agricoltura. Non capisco il motivo, cioè è una cosa assurda. Noi siamo agricoltura, quindi chi meglio di noi? Foggia è la seconda provincia per estensione in Italia, è la seconda provincia per produzione lorda vendibile, ma siamo secondi solo perché alcuni prodotti li abbiamo sempre fatti trasformare ad altre regioni, tipo il pomodoro alla Campania, le bietole al Molise. Se noi iniziamo a chiudere la filiera, iniziamo a chiudere tutto il percorso, a fare la filiera corta, noi potremo diventare la prima provincia d'Italia per la produzione lorda vendibile. Tra l'altro noi siamo una provincia che produciamo dall'A alla Z, io scherzo faccio la battuta dall'aglio alla zucchina, noi produciamo di tutto. Se voi considerate che solo per l'olio, che è un prodotto, e noi ne produciamo quattro, abbiamo quattro DOP d'olio in provincia di Foggia. Cioè per un solo prodotto ne abbiamo quattro. Quindi questo la dice lunga su quello che siamo noi per quanto riguarda l'agricoltura.